Bellissime parole, io però lo sento nel caso che non è di cinque anni fa ma che è intermesso. Ci sono qui dei lavoratori che non stanno gestando, mi guardo sottolineare a te che sei il sindaco che in Agist e SdA stanno succedendo delle cose che si mangiava mai detto che non stanno convincendo. Io ho già fatto tutte le proprisioni, spero che adesso è arrivata a discuterla, ma io credo che non ha interessamento da parte del sindaco. Questo tema si tratta da quello che si tratta di parte, di parte, di organizzazione, soprattutto i lavoratori, che è utilizzata in maniera propria e la dominazione. Chiedo un intervento del sindaco e magari se potete anche una risposta o una grande. Di come ben conosce un rappresentante sindacale che mi arriva anticipato, la questione io ho già avvocato e ho già avuto due incontri consecutivi con i rappresentanti di altri spessi piano. Quindi sto facendo tutte le verifiche del carico e in commissione per razionalimento. O nel rispetto per l'autonomia, ma anche per il dovere, il primo cittadino, e il dovere per la verità dei partiti. Gli incontri sono già stati tenuti, ho avuto due incontri. Uno nella giornata del lunedì scorso, l'altro ieri mattina, prima di mezzogiorno, e sono in grado di poter andare in commissione, quando sarà la commissione, a relazionare il merito, punte nel mio conto e l'altro con l'autonomia. Ma nel rispetto, ovviamente, di tutte le dinamiche e del corretto rapporto di merito e di uomo. Finalmente la parola è la politica, contatto pure.